Grazie a tutti. Allora, ispezioni a rientro in porto. Questa è l'apertura. Scoperto un quintale di pesce irregolare. Sono stati fatti dei controlli da parte della Guardia di Finanza. E poi stop ai voli dopo le 23. Il sindaco di Rimini e Marcello di Fratelli d'Italia chiamano il vice ministro per i voli che sono poi stati dirottati a Bologna. E poi rapina in ufficio postale, indagini lampo dei carabinieri arrestato un 33enne e questo è successo a Bellaria, Igea Marina. Andiamo con ordine quindi nell'ambito dei controlli sulla regolarità di cattura e commercializzazione della pesca. Nella notte del 19 luglio la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza di Rimini hanno monitorato i pescherecci appunto proprio mentre rientravano in porto. L'attività è proseguita fino all'alba e hanno accertato un quantitativo di quasi un quintale di prodotto ittico senza tracciabilità immesso in commercio da due aziende del settore. Il prodotto è stato sequestrato e sarà poi verificata l'idoneità al consumo umano per l'eventuale devoluzione a scopo benefico. Le aziende dovranno pagare una sanzione di 3.000 euro. Andiamo adesso a parlare anche dei voli. Stop ai voli dopo le 23. Una soluzione in tempi rapidi è quello che ha garantito il vice ministro ai trasporti Galeazzo Bignami. Sollecitato sia dal collega di partito Nicola Marcello, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, sia dal sindaco di Rimini, Jamilsa De Golvad. Il problema, un grosso problema, riguarda l'aeroporto di Rimini come tanti altri scali italiani dove l'assistenza di volo è operativa dalle 7 di mattina alle 23. Negli ultimi giorni, a causa di ritardi, alcuni voli provenienti da Budapest, Londra e Praga sono quindi stati dirottati su Bologna con conseguenti disagi per i passeggeri in arrivo ma anche per quelli in partenza da Rimini. Finora Riminum, società di gestione del Fellini, ci aveva messo la classica pezza pagando qualche ora di straordinario ai controllori di volo ma con l'aumento dei collegamenti in orario a rischio, il tetto agli straordinari, il rimedio però non è più possibile. Allora il vice ministro ha promesso sia al primo cittadino che al coordinatore di Fratelli d'Italia una risposta in tempi brevi su questo che effettivamente rappresenta un problema. Andiamo a parlare di una rapina in ufficio postale, è successo a Bellari e Giamarina, con un'indagine lampo i carabinieri hanno arrestato un 33enne, aveva rubato il denaro custodito in cassa, circa 350 euro, era fuggito subito a piedi. I carabinieri di Bellari e Giamarina subito sul posto hanno avviato un'indagine guardando le immagini della videosorveglianza. I sospetti poi si sono indirizzati sul 33enne italiano che dimorava in un hotel della Riviera e proprio all'interno dell'hotel è stato localizzato e dopo che i militari sono riusciti con non poca fatica a farsi aprire la porta della sua stanza hanno eseguito un controllo e hanno trovato capi di abbigliamento compatibili con quelli utilizzati appunto dal rapinatore dell'ufficio postale. L'uomo è stato arrestato in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Rimini in attesa del giudizio per direttissima. La rapina è avvenuta sabato mattina alle 8.50 all'apertura dell'ufficio postale in via Lamone. Andiamo adesso a parlare di chi denigra Rimini con dei post sui social. Toleranza zero dell'amministrazione comunale contro questi post che denigrano il mare di Rimini con falsi problemi di inquinamento. Sono stati attivati gli uffici legali del comune proprio per valutare le querele. Sentiamo. Il mare di Rimini è attualmente coinvolto in un'emergenza ambientale a causa della presenza di rifiuti e inquinanti lungo le sue coste. Le autorità locali stanno lavorando per ripulire le spiagge e risolvere il problema. Queste poche righe tratte da un post circolato di recente con immagini delle mucillagini, fenomeno naturale, e l'invito ad andare in vacanza in Puglia mostrano ancora una volta come sui social si possa distorcere la realtà con grande disinvoltura, salvo poi doverne rispondere nelle sedi giudiziarie. Anche in questa estate 2024 Rimini e la Riviera devono fare i conti con post denigratori che spesso vanno al di là della semplice buttad da catteggio e mettono in cattiva luce il mare riminese. Un mare, ricorda il sindaco Sadegolvad, tutelato attraverso enormi investimenti, sicuro e soprattutto stracontrollato. Il sindaco condanna questo vizio ormai di lunga data, opera di cretini e poveretti, anche se a volte col sospetto di sicariato per conto terzi. Ringrazia la nutrita controoffensiva romagnola e non solo, che risponde con prontezza sui social a questi attacchi e fa sapere che gli uffici legali si sono già attivati per valutare cause civili contro chi si è spinto troppo oltre. Ogni euro che ne dovesse venire dai risarcimenti, assicura, sarà speso nella promozione del mare riminese. E adesso andiamo a parlare delle imprese, della demografia delle imprese. Il numero delle imprese attive in provincia di Rimini è stabile rispetto a un anno fa e in ripresa nell'ultimo trimestre. Non tutti i settori però hanno dati positivi. Lo rilevano i dati movi imprese elaborati dalla Camera di Commercio della Romagna. Sentiamo. Al 30 giugno in provincia di Rimini si contano 39.458 imprese registrate. di cui 34.666 attive, con una densità di 102 imprese attive ogni 1.000 abitanti, superiore al dato regionale 88 e quello nazionale 86. Nel secondo trimestre di quest'anno ci sono state 567 iscrizioni e 366 cancellazioni per un saldo positivo di 201 unità. Nel confronto col 30 giugno 2023 c'è una sostanziale stabilità delle imprese attive, meno 0,1%, anche in questo caso dato migliore rispetto a quello regionale, meno 0,9% e nazionale, meno 0,5%. Tra i singoli settori crescono costruzioni, attività immobiliarie e finanziarie, inflessione commercio, agricoltura, manifatturiero e trasporti, stabile alloggio e ristorazione. Quanto ai singoli territori, il comune di Rimini è stabile, in crescita riccione, mentre cala la Valconca. La tipologia più diffusa è l'impresa individuale, il 50,1% del totale, seguita dalle società di capitale, il 24,8% dato in crescita. Sempre dal nostro sito newsrimini.it, sentite questa notizia. Rimini è nella top 10 delle città più care a giugno. Si parla quindi di inflazione. L'Istat ha reso noti nei giorni scorsi i dati dell'inflazione di giugno e in base all'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori, Rimini figura nella non invidiabile top 10 delle città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Il dato inflattivo si attesta al più 1,3% a fronte dello 0,8% medio italiano e dell'intera regione dell'Emilia-Romagna. In termini di costo della vita, sempre secondo l'Unione dei Consumatori, quindi l'aumento si traduce in 353 euro in più di spesa annua per ogni famiglia riminese. Non è poco, sono quasi 400 euro. In testa alla top 10 c'è Siena, davanti a Rimini in regione c'è solo Parma, mentre Ferrara registra i medesimi incrementi. Nella graduatoria di città più virtuose d'Italia vincono tre realtà che sono in deflazione. Al primo posto c'è Biella, medaglia d'argento Campobasso e poi c'è Caserta. Tra le regioni la più costosa è il Veneto, mentre l'Emilia-Romagna è ottava. In deflazione ci sono il Molise e la Valle d'Aosta. Anche queste notizie pubblicate dal nostro sito newsrimini.it ci fanno rendere conto di come siamo piazzati su queste classifiche. Allora, andiamo ancora avanti e parliamo di Start Romagna, perché nei giorni scorsi ha presentato il bilancio 2023, caratterizzato da un cospicuo aumento di passeggeri per il trasporto pubblico, però è in controtendenza il servizio metromare. Una manciata di chilometri percorsi in più, ma qualche migliaio di passeggeri in meno. Questo per sommi capi l'andamento 2023 del metromare per quanto riguarda l'unica tratta al momento operativa, quella tra le stazioni di Rimini e Riccione. I dati emergono dal bilancio pubblicato nei giorni scorsi da Start Romagna. Complessivamente nel bacino di Rimini crescono i passeggeri del trasporto pubblico, quasi 20 milioni e mezzo, tre in più dell'anno precedente, ma il metromare va in controtendenza. Lo scorso anno, infatti, a fronte di 5 mila chilometri in più percorsi, i passeggeri trasportati sono stati 656.248 contro gli oltre 696.000 dell'anno precedente, quindi circa 40.000 in meno. Un dato che sorprende un po', perché il 2022, se da un lato aveva beneficiato di un'impennata di utilizzo nel periodo della donata degli Alpini, dall'altro era stato penalizzato in avvio dalle limitazioni Covid e in corso d'anno da alcune chiusure del tracciato per gli ultimi collaudi dell'infrastruttura. Il 2023 è stato invece il primo anno a pieno regime, con i mezzi full electric. I dati, spiega Start, sono calcolati con la metodologia in uso per la rendicontazione all'osservatorio regionale e comprendono anche i passeggeri che derivano dai titoli rilasciati gratuitamente all'utenza, ma con contribuzione della regione, come ad esempio l'iniziativa Salta Su. Lo scorso anno sono stati lanciati anche i titoli di viaggio Metro Mare 75 Minuti e Metro Mare 24 Ore, per semplificare l'accesso dei turisti, per cui risultava complesso, spiega ancora Start, interpretare agilmente il sistema tariffario zonale in vigore. Numeri a parte, l'ex TRC continua ad ampliarsi. Entro il giugno 2026 saranno completati i lavori finanziati dal PNRR per la tratta di 4,2 km tra la stazione di Rimini e la Fiera. In fase di progettazione, anche l'estensione verso Cattolica e Misano, mentre è stato firmato nei mesi scorsi il protocollo per l'estensione del servizio anche verso Sant'Arcangelo. Questi ultimi tratti parteciperanno al nuovo bando del Ministero dei Trasporti. Dal nostro sito newsrimini.it, 1994, 2024, quest'anno il torneo di vita ha festeggiato i 30 anni dalla sua prima edizione. All'importante compleanno ha partecipato anche il Vescovo di Rimini, Niccolò Anselmi, che è sceso in campo insieme a una selezione di preti e diaconi in un amichevole con gli all-star del torneo, giocata prima della finale, che ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo i bianchi. Vediamo. In occasione di 30 anni dalla prima edizione del torneo di vita, il campo della promosport Rimini ha fatto da gustoso antipasto alla finale del torneo, nel quale vince sempre l'amicizia, una partita amichevole tra all-star del TDV e preti e diaconi, squadra nella quale ha giocato anche il Vescovo di Rimini, Niccolò Anselmi. La gara è finita 2-2 ed è stata commentata, per il numeroso pubblico presente, da Tizio Emandu. Amici incredibili! È il gol di sua eccellenza, Niccolò Anselmi! Don Tarcisio Tamburini ha ricordato la finalità con cui è stato pensato, durante una camminata del settembre del 93, il torneo di vita. Proporre a tutti i ragazzi che sono borderline alla vita parrocchiale o associativa un'esperienza di sport che li potesse aggregare e poter far passare a loro la bellezza di un diventamento sano, di un ritrovo amicale bello, semplice. Il Vescovo Niccolò Anselmi ha ricevuto il premio Atleta di Vita. Veramente sono un po' emozionato. Ora io non so se ho interpretato lo spirito del torneo, però effettivamente anche questa dicitura Atleta di Vita, spero che fra altre cose anche un po' San Paolo dice che la vita è un po' una corsa, è un gesto sportivo, è un impegno fatto di vittorie, di sconfitte, ma anche sempre comunque di gioia perché il Signore è vicino, per cui spero di essere anche io un atleta nella mia vita e auguro a tutti di esserlo. La finale è stata vinta dai bianchi del presidente Renzi, che hanno superato per 2-1 i fucsia del presidente Favarò, bissando così il successo del 2023. I bianco di Alberto Renzi, i Blancos! Primi classificati in questa edizione 28 del torneo, il suo trentennale di vita. E torna anche un appuntamento fisso del basket riminese estivo, ovvero Summer Hoops, il torneo di pallacanestro 4 contro 4 a San Giuliano Mare, alla sua sesta edizione con un importante risvolto sociale e benefico. Vediamo. Dal 25 luglio al 4 agosto, nella ormai consueta location di San Giuliano Mare, torna Summer Hoops, la sesta edizione del torneo di basket 4 contro 4, che rappresenta da anni un appuntamento fisso dei canestri riminesi nella stagione estiva. L'evento, riservato a tre categorie, maschile e femminile open e under 16 maschile, e a giocatori e giocatrici militanti in serie D o in campionati minori, ha avuto un'ottima risposta dagli atleti, con circa 220 iscritti complessivi. La rassegna, anche quest'anno, si aprirà nella serata del 25 luglio, con l'abituale All-Star Game, un appuntamento che vedrà coinvolti i 12 migliori talenti del territorio riminese. La manifestazione nasce come un semplice torneo tra amici nell'anno 2018, nell'estate del 2018, sempre qui a San Giuliano. Si cercherà di creare un contesto di unione tra giocatori giovani, quindi dal 2000 in giù, e giocatori meno giovani, delle annate 80 e 90. Una novità importante del Summer Hoops 2024 è rappresentata il giorno 28 luglio dal Piadei, una serata di basket e beneficenza organizzata in collaborazione con i ragazzi del Deportivo La Piadeina. Il ricavato sarà interamente devoluto all'Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, che da oltre 20 anni si occupa dei bambini colpiti da patologie oncoematologiche. Col Piadei abbiamo pensato, nel contesto del Summer Hoops, di coinvolgere AROP, l'Associazione Riminese Oncologica Pediatrica, e in questa serata di inclusività basket e piadina, 60 persone maschile e femminile con iscrizione singola si sfideranno in dei 3 contro 3 a metà campo e l'intero ricavato della serata verrà devoluto appunto ad AROP, che è stata entusiasta di partecipare all'evento. Mi sono spostata sull'Ansa, Emilia Romagna, perché c'è una notizia battuta da poco, che parla di traffico di cocaina da Parma. Sette misure cautelari della Guardia di Finanza, sequestrati 360 mila euro, il capo stava in una villa magazzino, quattro persone sono finite in carcere, altre tre con divieto di dimora nella provincia di Parma, sono tutti albanesi, sequestrati 360 mila euro, che sono ritenuti profitto di un traffico di droga. Queste sono le misure messe dal GIP, eseguite dalla Guardia di Finanza, in un'inchiesta per detenzione e spaccio di cocaina, le indagini hanno ricostruito gli acquisti e permesso di fare sequestri di sostanza di cocaina negli scorsi mesi. Nel marzo del 2023, per esempio, un corriere è stato controllato a Cervia e arrestato in flagranza, mentre prendeva dal doppio fondo della sua auto tre pacchi con 3,3 kg di cocaina. Secondo l'ipotesi investigativa, la cocaina, una volta arrivata a Parma, sarebbe stata dirottata anche in altre province, Pesaro, Urbino, Macerata, Alessandria, Brescia, Mantova, Ravenna, Rimini, Udine e Pordenone. Sono 15 in tutto gli indagati dalla procura parmigiana, alcuni dei quali ritenuti dagli investigatori di notevole spessore criminale. Un'altra notizia che vi leggo dall'Ansa è questa dell'aumento di casi di Covid in Emilia-Romagna. Però, lo leggiamo anche qui dall'Ansa, non c'è preoccupazione. Donini, che è l'assessore regionale alla sanità, dice che c'è ritorno del virus, ma non c'è ricaduta sugli ospedali. C'è un ritorno, un aumento dell'infezione da Covid, però appunto non ci sono casi da terapia intensiva e non ci sono scostamenti rispetto alle ultime ondate, che sono state assolutamente gestibili, quindi non c'è un tasso di ospedalizzazione preoccupante. però effettivamente c'è stato un richiamo su queste infezioni da Covid, per cui ormai sappiamo come comportarci. Se dobbiamo andare in un posto con molte persone, magari utilizziamo la mascherina e tutte le norme che abbiamo bene imparato, abbiamo dovuto imparare negli ultimi anni. Andiamo adesso a vedere il meteo, le previsioni regionali per questo lunedì 22 luglio, nuvolosità variabile con ampie zone di sereno del settore occidentale, nuvolamenti più consistenti sul settore centro-orientale associati a rovescio temporali sparsi, rasserenamenti durante la giornata con ancora però possibilità di fenomeni lungo il crinale appenninico e in modo più sporadico sulla pianura. Vediamo anche le temperature massime in lieve flessione soprattutto sul settore centro-orientale della regione con valori compresi tra 32 e 33 gradi nel settore occidentale e 30-31 invece in quello orientale. In ultima battuta andiamo a vedere Rimini ci mette sulla nostra provincia un pomeriggio di rovesci, qui sembrano proprio dei temporali che poi si esauriranno a sera. Sulla costa temperatura tra i 30 e i 29 gradi, sui rilievi tra i 25 e i 26 gradi, il sole è sorto alle 5.48, tramonterà alle 20 e 42. È davvero tutto per questa edizione del pomeriggio, grazie dell'attenzione, vi rimando alle edizioni serali delle 19, 15 e 20 e 15 dalla redazione, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.